Amici, amici, amici! Questa sera, a proposito di capolavori, sapete che cosa vi faremo vedere? Eh no che non lo sanno, se no avrebbero già cambiato canale. Una palla di film lituano che non vi sto neanche a dire. Com'è che si chiama Bob? Si chiama Allegria, amici. Allegria, qui, Hollywood Party. Grazie a tutti. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 25. Sì, sì. 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 Sì, sì.